Questa è una mostra antologica, però contemporaneamente il tipo di installazione che questo spazio ci ha consentito ha fatto sì che noi abbiamo potuto mescolare le carte, abbiamo potuto non rispettare nessuna cronologia ma solo montare una mostra con la piacevolezza degli sguardi reciproci, con la piacevolezza di dare questa sensazione delle persone che in qualche misura si incontrano. Ero timidissima e quindi la scoperta della macchina fotografica dietro la quale potevo un po' nascondermi mi piace, mi aiuta nel rapporto col mondo. È importantissimo il tempo dell'attesa perché soprattutto nei ritratti ho un modo un po' personale di ritrattare una persona perché ho bisogno di conoscerla e poi di avere un tempo in cui si possa dimenticare della mia presenza e là io ho quel tempo dell'attesa in cui riesco a cogliere quello che voglio cogliere in quella persona.